Ciao ragazzi, com'è stato? Ci siamo qua in un prossimo video e oggi siamo qua con Ita Ciao ragazzi C'è gente che entra, quindi aspettiamo un attimo Siamo in negozio Ah sto! E ti entra? Allora, io qua ho tre assi Ok Però voglio indominare quali sono? Quadri, picche e pioi Perfetto, quindi così Quadri, picche e pioi Vabbè, zoomerò Guarda, che c***o Hai visto? Guarda, eh Certo Che cat erano? Quadri, picche e pioi Guarda, schiocco le dita Fiori Picche Cuori Il quadri Compare girato Metta una C'è il gioco, ok? Puoi mescolare? Come vuoi? Mescolare Poi fa questo muoio Stendi Prendi una calza Una sola? Come vuoi? Faccio vedere il giro Guarda, fa la vedere Guarda, fa la vedere Uno Sei Vai Mettila in cima E non vuoi imparare niente di l'uso Tagli Semplice Squadra Per sicurezza Faccio vedere che do altri tagli Sì E ti chiedo Dimmi il numero quello che vuoi Da uno a dieci Sette Sette Ci servirà alla fine il sette Ok Adesso prendo delle carte Alla fine Alla fine Ti servirò la tua carta Su queste carte Ok Deve essere questa Probabilmente Di questo Di prima di questo No Di questa In realtà era rossa o nera? Rossa Quindi c'è queste quattro Ogni volta che io faccio questo gioco C'è questa carta che mi dà moglie Ok Quindi la prendo E la metto in tasca Come si dà noia Come nel cuore Sì Cioè non ce la può fare In questo gioco In questa carta Perché devi mescolare Come vuoi Ok Mescolare 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 Ok Prendi la carta qualsiasi E mi giro E falla vedere Fatto Vai Affoggiarla qua Di dorso Ok Si vede Ok Ok Mettila in cima Non voglio fare niente di l'osco Quindi voglio tagliare Semplicemente Ok E squadra Poi vi faccio rivedere così Che taglio Semplicemente Adesso ti credo di pensare a un numero Da uno a dieci Quello che vuoi Sette Sette Il sette Ok Ci servirà alla fine Io prendo delle carte Tipo Vediamo No però Non voglio andare a cercare Ok Queste quattro carte casuali Vi danno a trovare la tua carta Vai La prima mi dice Se è l'osso o nero Una carta nera Vero? La seconda Mi dice se è di picchi o di piori Eh? La carta di picche La terza mi dice se è un numero o una figura Sì È un numero Ma scusa che cartella? Tre di picche Tutte quelle volte È impossibile Io in mano ho sempre avuto Il 4-7 Che era il numero Che avevi pensato te No ma Ok Quanto ricordi All'inizio del gioco All'inizio del gioco Mi dava noia Mi aspettarla Prendo Ok E se sarebbe impossibile E se sarebbe impossibile E questo Ci sta Allora Per questo gioco Ok Questo gioco si chiama la carta e la scatolina Ok Sei? Ci sono Però non me lo ricordo bene Molto bene questo gioco Ok Vado Prendi la carta Ti guardi Ti guardi Ti guardi Sul tavolo Ok No Non ricordo Aspetta Sul mazzo No no Ora ricordo Ora ricordo Era sul tavolo Ok Adesso Prendi questa carta Sì Era la mia ma mia Non la tua Sul tavolo No aspetta Non ricordo bene No serviva la tua carta Facciamo così Guarda Prendiamo Guarda Ora ricordo Sul tavolo Era sul tavolo Ora ricordo Adesso Per questo gioco è molto particolare Ok Perché molti mi dicono di vedere la propria carta In cima Molti mi dicono che la vedono circa in mezzo Altri invece mi dicono di averla vista sopra E invece molti altri mi dicono di averla vista in fondo Al mozzo E altri ancora invece mi dicono di averla vista In cima Non c'è un pozzetto sul tavolo Ok È impossibile È impossibile Perché la carta c'è un pozzetto In cima Non c'è un pozzetto Però non mi lo ricordo Non so Non me lo ricordo molto bene questo gioco Ok Ehm Che gioco era questo? La carta o la scatolina? La carta o la scatolina? Oh 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 Non c'era la carta? Bellissimo 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 Nel mio canale Sul canale che vi metto in descrizione Itanihaic che vabbè è andato su Tosikeevales Ehm Su un po' E si vanta per questo Ehm Basta E quindi basta niente Diccio questo tratto Io sarei picchiato Ehm 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 Ehm